allora il problema è che sembra che ci sia una bolla d'aria qui dentro, infatti la prima frenata praticamente quasi non c'è, io faccio così e arrivo alla leva, adesso sta cominciando ad andare in pressione, adesso è un po' più duro e qui è quasi normale, quindi in questo momento c'è la frenata quella come si deve, a parte che il bianco deve essere in questo caso, però tra un minuto torna ad essere floccia, floffa, si floffizza, bravo, ah aspetta vediamo, ecco già sento che, guarda c'è ancora un po' di versione, eh bravo vedi, ecco già stavo perdendo ciao ciao chiudo eh chiudi io è proprio un cazzo, vado di là qua pure c'è Mario c'è? porca miseria guardate però se poi si riforma, io con tanta la leva eh eh si si faccio sci eh quelle rispetto a quelle io lascio aperto e fate qui, vedi qua sale eh certo, certo, ma si quindi sto sci eh io penso di fermarmi, basta, qua per me c'è più altro si ciao ciao ecco che sale l'olio dal tubo arriva ecco là e scarica in vaschetta adesso segui il tubo fino giù fa la pinza vai ecco ah eccola eccola, vediti? no guarda le guante escono Quasi c'è un loop, io non devo più aggiungere l'olio, si allo alimenta da solo, mentre spiego sotto. Ok, basta. Grazie per la visione! Grazie a tutti! La mia pompa, pompa nuova, senza lo spurgo. Freno. Non è cambiato un cazzo. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!